Con quel video mio fratello si è fatto giustizia da solo, sussurra accompagnato in procura dal padre Antonino Laganà, il fratello di Kevin, 22 anni, il più giovane dei 5 operai morti il 30 agosto scorso a Brandizzo. E' autore del video che mostra i minuti precedenti all'incidente, un documento fondamentale nell'inchiesta e nel futuro processo, con quella voce che in sottofondo urla, se dico treno, andate da quella parte. Ragazzi se dico treno andate da quella parte. Un filmato che ha toccato nel profondo le famiglie delle vittime, un dolore vederlo, ci riferiscono, ma allo stesso tempo un faro che illumina la realtà di quella sera e di chissà quante altre. Noi dal video, guardando il video e del motivo per cui lo abbiamo prodotto in procura, ci è sembrato di poter desumere una certa abitudinarietà in questo tipo di condotte. La procura, anche per accertare questo, se cioè fosse una prassi consolidata a cominciare i lavori prima del nulla osta ufficiale, ha ascoltato per 4 ore Antonino Laganà, anche lui dipendente della Sigifer, l'azienda che in appalto per RFI cura la manutenzione delle rotaie. La procura di Ivrea ha disposto una perizia su quel video rimasto nelle bozze dei social di Kevin Laganà e mai pubblicato dal ragazzo, per capire con esattezza quanti minuti prima dell'incidente sia stato girato e a chi siano attribuibili le diverse voci che si sentono. Chi ha sbagliato pagherà, ha dichiarato Matteo Salvini. Siamo al di fuori di ogni regola e del buonsenso, ha aggiunto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Non si lavora sui binari se ci sono treni in movimento. Massimo Postiglione, Sky TG24, Ivrea, Torino.